Dilaga la disillusione, questo è il dato che emerge dalla domenica delle elezioni. Ieri sera alle 23 infatti solamente un elettore su tre si era già arriccato alle urne. Esattamente il 39,4% in Italia, meno se si considera solo l'Abruzzo. Ieri nella nostra regione ha votato il 36,47% degli aventi diritto. Il record abruzzese della domenica è di Gagliano Terno, in provincia dell'Aquila, dove alle 23 aveva già votato oltre il 90% degli aventi diritto, mentre Montenero Domo, in provincia di Chieti, è il comune dove la fiducia nel sistema maggioritario rappresentativo è più scarsa. Qui ieri ha votato meno del 20% degli aventi diritto. La posta in palio è tutt'altro che risoria. Fino alle 15 di oggi infatti si voterà per il referendum riguardo le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. In Abruzzo inoltre 60 comuni sono chiamati alla elezione del Consiglio Comunale. L'esito del referendum e delle regionali però non potranno avere impatto sulla composizione e l'indirizzo politico della maggioranza nazionale. Anche in Abruzzo le amministrative sono destinate ad assumere peso rilevante nella politica locale, in particolare a Chieti, dove l'esito delle urne potrebbe sconvolgere l'assetto della giunta regionale. In queste elezioni infatti l'assessore Mauro Febbo ha scelto di giocarsi il posto nel governo abruzzese. Nei maggiori comuni dove verrà eletto il sindaco si registra una percentuale di votanti levemente maggiore rispetto alla media. Occorre sottolineare però che ad ogni modo gli elettori hanno deciso di esprimersi sul referendum piuttosto che sulle amministrative. A Chieti ad esempio ieri quasi il 52% ha scelto il nuovo sindaco e quasi il 56% si è espresso sul referendum. Stessa storia ad Avezzano, dove il 56% ha segnato la scheda delle amministrative e oltre il 60% quella del referendum. In entrambi i comuni si è però già superato il dato sull'affluenza delle scorse amministrative, probabilmente proprio perché vi è il referendum in concomitanza. Mentre l'emergenza covid non potrà di certo essere la giustificazione alla solita scarsa affluenza. Nei seggi infatti sono garantite tutte quelle misure di sicurezza anticontagio disposte dal Viminale e anche chi in quarantena o ricoverato può esercitare i diritti politici votando in apposite modalità direttamente da casa o dall'ospedale.